Quindi abbiamo Dalino Hondo, quindi andiamo alle maglie del team Radio Shack, anche le maglie e la colla con la ruota di Hondo in terza posizione e Alessandro Gritacchi. Accompagniamo con un applauso le ultime centinaia di metri di questa tappa, centinaia di signori e signori. E ancora Dalino Hondo a tenere alta l'andatura, si lancia la volata. E' lanciato uno sprint, Alessandro Pettacchi si lancia anche Berletti, parte il grello della Movistar in questa fase di corso, siamo ormai 250, ma la confusione della maglia della Movistar, anche a Pollonio, eccoci con lo sprint. E Dacchi nelle prime posizioni, la maglia rossa, il rosso passione degli Dacchi, Gavendis, Gavendis, Gavendis! Grazie a tutti!